Naruto Shippuden, i personaggi che vanno dal numero 22 al 25 adesso con i manuali qui vediamo un po' solo i poster quindi con Kurenai, vediamo il poster, molto carino con i membri della sua squadra molto semplice, vediamo il numero 23 di Idan il poster con tutti i personaggi, i chibi, caruccio, caruccio non amo particolarmente i chibi ma questo non è male il numero 24 Sasuke con versione Akatsuki, il mantello vediamo il suo poster che è molto semplice è lui insieme a Itachi con sfondo viola, caruccio anche questo e l'ultimo, il numero 25 Danzo il suo poster più che altro è una serie di immagini tratte dall'anime dopo aver visto i manuali adesso passiamo direttamente ai personaggi con il numero 22 vediamo adesso la miniatura di Kurenai Yui ed eccola qui nel suo splendore partiamo dai difetti diciamo che questa miniatura difetti non ne ha è fatta abbastanza bene mentre ovviamente di conseguenza i pregi è ovviamente che tutta la miniatura è fatta per il modo perfetto esemplare soprattutto per la faccia che la trovo molto ben definita ma anche per il resto tutto il corpo non ho nulla da dire in questa miniatura secondo me è ben fatta quindi direi un voto ovviamente positivo la prossima miniatura la numero 23 abbiamo Idan ed eccola qui questa è leggermente più alta difetti l'unico difetto che riscontro è nella faccia che secondo me la faccia non è male però comunque non è fatta per niente somigliante rispetto all'originare anche i capelli sono leggermente più lunghi del normale quindi direi che per la faccia vedete anche dal più vicino non è proprio dettagliata anche se gli occhi comunque li hanno fatti tutti ben scolpiti di pregi invece di per sé abbiamo il corpo che ovviamente tutto il corpo è fatto veramente bene soprattutto per la pose sia per come l'hanno fatto il vestito strappato ma anche per l'arma quindi purtroppo peccato per la faccia ma direi che questa miniatura ha una valutazione diciamo media peccato peccato la prossima miniatura la numero 23 Sasuke in versione Akatsuki eccola qui vi dico che la spada si può anche rimuovere io ovviamente non la toglierò perché comunque è stata già difficile metterla perfetta all'interno difetti di per sé questa miniatura non ne ha sembrerebbe strano ma in realtà non ne ha dico strano perché solitamente i personaggi che hanno il mantello della Akatsuki di solito il mantello non riescono a modellarlo per bene ma anche dalla faccia vedete che è stata fatta anche abbastanza bene di conseguenza il pregio ovviamente anche questa è ben fatta non me l'aspettavo sinceramente sicuramente questo Sasuke è migliore del primo Sasuke della terza uscita che è uscita molto tempo fa quindi direi che questa miniatura ha una valutazione più che positiva la prossima miniatura è la numero 25 Danzo eccola qui molto semplice nel suo stile non so dare né difetti né pregi perché di per sé la miniatura è molto semplice non ha nulla da particolarmente scolpire in modo difficoltoso la faccia di per sé non è né bella né brutta è molto semplice diciamo che potevano fare anche di più essendo un personaggio anziano potrei metterla come una di quelle miniature di non sapere dove metterla di dove collocarla però direi che anche questa miniatura di per sé è fatta anche bene quindi direi che per queste uscite l'invio numero 8 della D'Agostini direi che diciamo su 4 miniature 3 sono fatte bene e una è fatta leggermente male quindi direi che anche per questo video è finito e ci vediamo al prossimo bye bye grazie a tutti